Facciamo una premessa, cazzo, noi abbiamo amato Giampiero e lo amiamo tuttora e lo amavamo anche quando era sparito Io ho parlato malissimo di lui sempre, ma con quella nota di che coglione che è Per me era più una nota di... a me mancava Sì sì a me mancava, certo che mancava bro, non solo ho perso un cameraman ma ho perso un amico Che mi faceva il cameraman, che è la cosa peggiora Perché comunque ci divertivamo L'anedotto di cui volevo parlare era una sera in cui ancora uscivamo, io e te, c'era anche Nico No forse non c'era Nico, forse erano solo io e te E avevamo bevuto un pochino, avevamo un po' alzato il gomito E la prima cosa che ho fatto quando ero rientrato a casa è stata Adesso cago sul letto Giampiero Marco ha cercato di fermarmi in maniera molto strana, del tipo No, non farlo, però sì, farlo Non farlo, vai però Ho aperto alle 4-5 di mattina la porta di Giampiero in maniera molto violenta Mi sono tirato giù i pantaloni, ho allargato il mio buco di culo Questa è veramente la cosa peggiore che potessi fare Slay Loris E' finito, è finito E vabbè è andato male E ho aperto il mio buco di culo Giampiero ha fatto questo, me lo ricorderò per sempre Era steso, era così, era steso Ha fatto così Ha visto che c'era un buco di culo aperto davanti ai suoi occhi E ha tirato una bestemmia gigante E ha fatto questo No! Mi ha tirato una moffa così forte Che sono rotolato fuori dal suo letto Col buco di culo aperto E mi sono accasciato all'angolo Ma io mi ricordo Io mi ricordo Io mi ricordo Che effettivamente Un pezzo di merda No, io ho scorreggiato, ho fatto tipo No! No! Bam! E mi ha sbattuto fuori Non era caduto a merda, me lo ricordo Purtroppo Però stavo veramente per cagare Se non mi tirava quel ceffone là Probabilmente c'era una chiazza di diarrea permanente sul suo letto Io di Giampiero invece ho questo ricordo qui E diciamo che quando siamo venuti qua a Milano Lui era molto viziatino Nel senso che tutte le cose anche minimamente cattive che gli accadevano Se la prendeva tantissimo Non solo tutto quello che aveva attorno, cose o persone Ma con la sfortuna generale che lo aveva colpito Senza sapere che Eravamo in realtà molto agiati ad essere uno di qua Grazie al fatto che avevo un contatto Avevamo subito trovato una casa dove stare Subito una casa dove andare in affitto Vai bene Slayloris ti ho perdonato già Non ti preoccupare Anch'io Bellissima scena Andiamo a fare la spesa Era ancora il periodo in cui era un po' viziatino Ma quando questa qua Era sempre qua a Milano All'inizio No 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 eravamo già in questa casa Eravamo già qua Sì Ok Però era nel momento in cui la casa aveva zero mobili Vivevamo alla stregua Sì 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 Pioggia torrenziale bro Noi abbiamo qui un dialetto che è proprio molto simmetrico Sia come alberi che come tutto Lui camminava Io stavo ancora vedendo la spesa dalla macchia Lui era già in fondo Mi giro E vedo questa cosa bellissima bro Intanto tuoni incredibili Era mattina Pioggia torrenziale Lui cammina Ok vedo questa silhouette di questa persona Con due buste pesantissime Si apre una busta Cadono tutte le uova Mi ricordo qualcosa del genere Lui fa così E vedo questa silhouette da lontano fare Porca no Io mi metto a ridere Vado la e gli faccio Giampiero Che cazzo hai Tu hai rotto un uovo Poi prendeva le uova che erano sopravvissute E le metteva dentro la busta Però rompendone nel progetto Io faccio Sei un coglione viziato Lui che sta parola La faceva tiltare tantissimo Si 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 Un coglione viziato Siamo saliti a casa Ha aperto la busta C'erano le uova che aveva salvato Però rotte Io faccio visto Non ci fa niente E andavo in camera E facevo Ma Il mio piccolo Giampiero Piccolino Piccolo e dolce Tante carezze Ma soprattutto Tanta voglia di migliorare Io apprezzo tantissimo Le persone diverse Anzi in realtà Apprezzo più questa tipologia di persone Però le persone Veramente diverse da noi Ma che ci stanno sotto Un sacco Con il nostro Modo di scherzare E si adattano subito Cioè Si prendono sempre Si prendono la confidenza giusta Dipendentemente anche Da quanto Gli ne diamo noi E lui Fra tutti i maschietti Che ho conosciuto Gioan Messina Era il the best A questo punto Ma si vede Si vede comunque Cioè Si è saputo Si sapeva Per questo mi è sempre mancavo